Benvenuti in questo nuovo tutorial fiscale. Oggi faremo l'unboxing del decreto Ristori e ci occuperemo delle norme relative alla parte fiscale. Il decreto Ristori è stato pubblicato in gazzetta ufficiale al numero 269 del 28 ottobre e contiene alcune norme importanti. Innanzitutto è stato previsto un nuovo contributo a fondo perduto. A differenza della precedente agevolazione contenuta nei decreti di marzo e aprile, la platea dei beneficiari è definita in base a degli specifici codici a teco e vale anche per le imprese con ricavi superiori a 5 milioni di euro. In particolare il contributo è riconosciuto ai soggetti che hanno partita IVA attiva alla data del 25 ottobre 2020, svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici a teco riportati ne ha allegato uno, tra cui bar, pasticcerie, gelaterie, ristoranti, piscine, palestre, teatri, cinema, alberghi, i quali hanno subito un calo del fatturato nel mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019 per almeno due terzi. Il contributo spetta anche in assenza di tale requisite ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1 gennaio 2019. Cliccando su questo link trovate tutti i codici a teco interessati che sono questi. Ora però è necessario capire come si fa a richiedere il nuovo contributo. I soggetti che hanno già beneficiato dal contributo a fondo perduto in sostanza non devono fare nulla perché il contributo è corrisposto automaticamente dall'agenzia delle entrate mediante accredito sul conto corrente bancario. Invece i soggetti che non hanno presentato l'istanza di contributo a fondo perduto possono presentare un'apposita istanza tramite apposita procedura web o tramite intermediario utilizzando il modello approvato in precedenza. Termi di modalità per la trasmissione delle istanze saranno definiti da un apposito provvedimento. L'importo del contributo varia dal 100% al 400% di quanto già ottenuto in precedenza e varia in base al codice a teco e secondo la tabella che abbiamo visto in precedenza. Quindi i soggetti che hanno già beneficiato del vecchio contributo avranno un nuovo contributo determinato con le percentuali in base a quanto già erogato in precedenza. Mentre i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1 gennaio 2019 verranno rivalutati in base ai minimi di 1000 euro per le persone fisiche e 2000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Per i soggetti che non avevano beneficiato del precedente contributo l'ammontare del nuovo contributo è determinato come quota del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell'istanza trasmessa sempre utilizzando i criteri stabiliti per il precedente contributo a fondo perduto. Per i soggetti con ricavi superiori ai 5 milioni di euro il valore è calcolato applicando la percentuale del 10%. Anche in questo caso il contributo non può essere superiore a 150.000 euro. Quindi esemplificando un ristoratore con ricavi 2019 pari a 600.000 euro e un calo di fatturato rispetto al 2019 di 50.000 euro il contributo sarà pari a euro 15.000 determinato come 15% di 50.000 euro moltiplicato per il coefficiente del 200% relativo al codice ATECO 561011. Ovviamente anche questo contributo non concorre alla formazione della base imponibile IRAP e imposte sui redditi. Sono stati poi previste altre agevolazioni. In particolare è stato esteso il credito di imposta per canone di locazione sempre pari al 60% del canone di locazione pagato nei mesi di ottobre, novembre e dicembre allargato anche imprese con ricavi superiori a 5 milioni di euro che abbiano subito un calo del fatturato pari al 50% rispetto all'anno precedente. Questo credito di imposta è poi cedibile al proprietario dell'immobile locato. È stata prevista la cancellazione della seconda rata IMU relativa agli immobili e alle pertinenze in cui si svolgono le attività per categorie interessate dalle restrizioni, a condizione che i proprietari siano anche gestori dell'attività. È stata inoltre prevista una misura per i lavoratori dello spettacolo e del turismo e cioè un'indennità di 1000 euro per tutti i lavoratori autonomi intermittenti dello spettacolo nonché la proroga della cassa integrazione. È stata inoltre riconosciuta un'ulteriore indennità destinata a tutti i lavoratori del settore sportivo che avevano già ricevuto l'indennità dai 600 euro. Nel decreto rilancio questa indennità viene aumentata a 800 euro. Infine viene prorogato il termine per la presentazione del 770 al 10 dicembre 2020. Grazie per l'attenzione.